Una pattuglia dei carabinieri interviene in seguito ad un incidente stradale avvenuto sulla provinciale numero due nei pressi di Platì. Mentre i militari si avvicinano al luogo, costeggiando una lunga fila di veicoli in coda, vengono attirati dal forte odore di marijuana proveniente da un furgoncino bianco guidato da un ragazzo già noto alle forze dell'ordine. Alla vista dei carabinieri che si sono avvicinati al mezzo, il giovane ha effettuato una manovra sospetta, svoltando in una traversa secondaria al fine di far perdere le proprietà racce. I militari però sono riusciti a bloccare il mezzo e dopo una perquisizione nel bagagliaio hanno trovato 72 kg di marijuana che probabilmente era appena stata raccolta e sfogliata. Nell'abitacolo i militari hanno anche trovato e sequestrato due maschere di carnevale tipo clown, due smartphone e due ricetrasmittenti, il che lascia presumere il diretto coinvolgimento anche di un'altra persona in questa attività di coltivazione e produzione di canapa indiana. Il giovane è stato messo agli arresti domiciliari in attesa dell'udienza di convalida.